Vincenzo Magri, magistrato da poco in pensione, uno dei massimi esperti di Indrangheta, nonché ex sostituto procuratore nazionale antimafia. Cos'è l'Indrangheta oggi e come si è evoluta? Guardi, io mi occupo di Indrangheta da almeno 30 anni e sono stato a Reggio Calabria molti anni come giugio istruttore, come Presidente del Tribunale delle misure di prevenzione, quindi so bene la storia e l'evoluzione di questo fenomeno criminale. Da allora l'Indrangheta è sempre andata avanti, ha sempre conquistato posizioni, sino a divenire dagli anni 93-94 in poi la più potente, la più organizzata, la più invasiva organizzazione mafiosa italiana, approfittando anche della crisi di Cosa Nostra dopo le stragi del 92-93. Oggi però, come tutte le altre mafie nazionali, l'Andrangheta ha subito non tanto un'evoluzione, non più un'evoluzione, ma una trasformazione, una mutazione radicale che ha coinvolto un po' tutte le mafie italiane e dal 93-94 sono diventate qualcosa di diverso. Non ci sono più guerre interne che avevano lacerato sia Cosa Nostra, sia la Camorra, sia l'Andrangheta negli anni 80, non ci sono stati più omicidi eccellenti, non c'è stata nessuna aggressione verso lo Stato, ma c'è una progressiva cooptazione delle mafie nel grande sistema economico imprenditoriale italiano, obiettivo che ha raggiunto anche attraverso gli enormi proventi procurati dal traffico della cocaina in particolare. Traffico della cocaina in cui l'Andrangheta è il leader assoluta per la cocaina importata verso l'Europa. È possibile ipotizzare un qualche rapporto con terroristi internazionali? Guardi, le mafie hanno sempre avuto rapporti con terroristi internazionali, per esempio ci sono stati dei collegamenti provati fra la Camorra e l'Eta, traffici di armi anche con l'Ira. Ma per quanto riguarda la situazione attuale, noi sappiamo che c'è un rapporto a parte il fatto con le FARC colombiane, che sono un'organizzazione terroristica se vogliamo, che hanno dialogato con le mafie nel grande traffico di cocaina. C'è un'operazione, l'operazione del decollo della DDA di Catanzaro, nella quale tutto questo rapporto viene descritto minutamente. Ma adesso le mafie italiane e in particolare l'Andrangheta sono in collegamento, in rapporto con le mafie jihadiste. Sembra strano questo termine, ma ormai è usato anche nella terminologia internazionale, le mafie jihadiste che operano nel Sahara e nel Sahel africano. Gli strumenti messi a disposizione dallo Stato per combattere questo fenomeno ritiene siano adeguati? Guardi, dal punto di vista processuale sono stati fatti passi in avanti, sono stati adeguati gli strumenti, abbiamo avuto nell'82 il reato associativo e poi altre norme in materia di riciclaggio, di sequestro e confisca dei beni, però siamo sempre nel campo di una strategia o meglio di una tattica di lotta alla mafia. Secondo me è giunto il momento di rivedere la strategia. Con questo tipo di lotta noi abbiamo dei successi ma non abbiamo vinto la guerra. Io ricordo che il Presidente della Repubblica Ciampi nell'ultimo discorso che fece prima di lasciare il suo incarico, parlando a Siracusa, disse che ora basta combattere la mafia, bisogna vincere, combattere senza vincere è inutile, bisogna passare e per vincere secondo me il mio modesto parere è quello che bisogna cambiare strategia. Io sento dire anche l'utilità di piccole manovre di aggiustamento del codice, non valgono, valgono ad accelerare il processo ma non a combattere o a vincere la mafia, ci vorrebbe ben altro. Cosa può dirci di Cosa Nuova, cioè l'organizzazione criminale costituita dall'alleanza di mafia e indrangheta? Guardi, nell'operazione Olimpia che risale agli anni 1993 c'è stata già un'ipotesi di imputazione per la costituzione di Cosa Nuova, però era un'organizzazione che si muoveva pur sempre all'interno dell'andrangheta. Quella contestazione, quella imputazione non ebbe un esito felice perché in corte rassise in primo grado venne ritenuta priva di riscontri probatori sufficienti. Adesso abbiamo una nuova configurazione di Cosa Nuova che non è limitata soltanto ad una delle tre organizzazioni criminali italiane ma che in qualche modo considera il sistema mafie italiane nel suo complesso. Quindi Cosa Nuova vede le mafie come una struttura organica. D'altra parte noi abbiamo sbagliato, anche gli storici hanno sbagliato, facendo sempre riferimento a singole associazioni mafiose, come se fossero isolati e indipendenti una dall'altra. Abbiamo la storia della Camorra, la storia di Cosa Nostra, la storia dell'andrangheta. Pochi autori hanno pensato ad una storia delle mafie italiane, ultimamente ci sono stati dei contributi importanti in questo senso sia da parte di Enzo Ciconte che da parte di Isaia Sales e secondo me bisogna ancora andare avanti su questo terreno. Dopo circa 40 anni di trincea a combattere le mafie, la battaglia è stata vinta o persa? La battaglia è finita in pareggio, dobbiamo andare ai tempi supplementari. Ripeto, la battaglia è stata efficiente, non si può dire nulla, così come è stata efficiente la lotta alla droga, ai traffici di droga. In Italia sono stati celebrati decine, centinaia di processi tutti seguiti da condanne anche pesanti. Da questo punto di vista siamo molto avanti rispetto agli altri paesi europei. La nostra efficienza investigativa è superiore a quella degli altri paesi. Però tutto questo non ci ha fatto vincere, come dicevo la guerra, perché siamo ancora qui a occuparci di mafia, di traffici di droga e così via. Occorre secondo me un salto di qualità, rivedere la politica proibizionista in materia di droga. Questo è un tema al quale io sono molto attaccato, perché è fallita sostanzialmente. Il proibizionismo ormai viene riconosciuto a livello internazionale come una strategia fallimentare. Non ha impedito l'arricchimento delle mafie, non ha ridotto i consumi, anzi ha aumentato l'arricchimento e ha aumentato i consumi. Quindi questa è una strategia da rivedere. Poi per quanto riguarda l'organizzazione il sistema mafioso deve essere interrotto l'altro pilastro, che è quello costituito dai poteri, dal rapporto tradizionale con i poteri pubblici, con lo Stato, con i servizi, con poteri occulti di diverso genere. È un rapporto che è iniziato immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, in Sicilia, e che si è protratto lungo tutti questi anni anche nel corso della strategia dell'attenzione e di tutto quello che è avvenuto in Italia da allora fino ai nostri giorni.